L'amministrazione difensiva, quali nodi, quale prospettive, confronto a Napoli, a Castel Capuano, con il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone. Lilli Vicaroteo. L'autotutela dei funzionari è usata come scudo per i rischi che possono arrivare dalle loro firme. L'amministrazione difensiva è un tema caldo che interessa da vicino i magistrati. Ne ha parlato oggi a Napoli il procuratore della Repubblica, Raffaele Cantone. L'amministrazione difensiva è stato uno dei temi con cui mi sono confrontato nella mia precedente esperienza all'anticorruzione. Io continuo a occuparmi, sia pure a titolo di studio di anticorruzione, quindi mi faceva piacere intervenire in presenza di tanti amministratori pubblici. Oggi poi a me interessa non poco anche come procuratore della Repubblica. Intervenuto al forum dell'ASMEL del segretario Francesco Pinto, il procuratore della Repubblica di Perugia fa il punto sulle soluzioni da adottare per evitare il cosiddetto bigottismo burocratico. L'amministrazione difensiva è un problema vero ma che si risolve, a mio modo di vedere, con due cose banali, ma proprio perché banali difficilissime. Tutto la semplificazione normativa. Finché avremo leggi incomprensibili per i funzionari, i funzionari non saranno mai in grado di decidere senza rischi. E poi il secondo grande problema è la formazione. I funzionari pubblici vengono messi alla merced di nuove disposizioni senza che nessuno faccia un minimo di formazione. Senza nemmeno gli mandino le norme per poterle applicare.